5 Stelle a valanga anche a Napoli e a Campania, come la valuti questa situazione e da cosa è divisa questa formenta? Innanzitutto io commento, cominciamo dal dato nazionale che avevo sinceramente previsto, quindi per me non è una sorpresa, è un voto prevedibile che vede nettamente primo partito in Italia il Movimento 5 Stelle con un risultato straordinario al sud, su questo poi ci ritorno, eccellente a livello nazionale, chiaramente non tale, e questo anche era prevedibile da poter governare, quindi non si avvicina al 40%, quindi avendo fondato la sua azione politica sull'autosufficienza non è una proposta di governo per l'alternativa, perché per poter governare dovrebbero andare a chiedere i voti ad altri. La prima coalizione che si avvicina molto al 40% è quella di centrodestra e da tempo avevo previsto che il leader del centrodestra, l'avevo anche detto, è Salvini e lo sarà sempre di più, quindi Salvini è per il futuro il leader della destra nel nostro paese, tra l'altro una destra a forte trazione nordista ma che comincia a fare alleanze anche nel mezzogiorno, quindi una forza nazionale, abbiamo il tracollo del partito democratico col peggior risultato della storia, una quasi scomparsa della sinistra dal Parlamento italiano. Trovo molto interessante il voto del mezzogiorno, lo dico da sindaco di Napoli, avendo sette anni fa vinto e poi rivinto le elezioni proprio puntando alla rottura del sistema tradizionale centrosinistra e centrodestra e proponendomi prima e poi essendo confermato dopo alla guida di una città che ha saputo coniugare, a mio avviso, rivoluzione e affidabilità di governo. Il sud dice basta a un certo centrosinistra e a un certo centrodestra, il risultato è inequivocabile in tutto il mezzogiorno, quindi mi sembra che è un voto molto di rottura, molto di voto di protesta, predomina un vento di destra sicuramente, lo spostamento a destra è evidente perché in questo voto di rottura, qualche volta anche di rancore e di rabbia c'è un voto di protesta ma c'è anche un voto che assomiglia un po' a un venticello di destra chiaramente netto nella coalizione di centrodestra dove il primo diventa Salvini ma anche in un certo elettorato del Movimento 5 Stelle. Adesso immagino che per completare il mio primo ragionamento, poi immagino saranno le domande, qual è lo scenario? E qual è il Napoli dove la collo? No, soprattutto lo scenario a cui deve guardare o a cui auspica un signo. Io vedo molto difficile la formazione di un governo perché la prima cosa che dovrebbe fare a mio avviso il Presidente della Repubblica, questo è quello che dico ovviamente senza permettermi di valutare quello che deve fare nella sua autonomia il Presidente della Repubblica, ma così ragionando da sindaco, da esponente anche di una forza politica che ha deciso di non fare campagna elettorale ma che adesso si prepara una grande sfida nuova sulla quale poi magari ci ritorniamo ma credo che sia giusto dare l'incarico a Luigi Di Maio, perché di gran lunga il primo partito intorno al 32% mentre abbiamo la Lega intorno al 18% quindi di gran lunga non credo che il Movimento 5 Stelle possa fare un governo perché per poterlo fare dovrebbe andare da coloro i quali ha contrastato, quindi come sentivo nel dibattito pensare a un governo 5 Stelle con un appoggio in Parlamento del Partito Democratico significherebbe, ma voi sono tutti filenziani, voi sono stati eletti, significherebbe a mio avviso ma lo dico un suicidio politico del Movimento 5 Stelle così come immagino anche se qualcuno possa spingere un governo con la Lega al 5 Stelle che ha avuto un risultato straordinario al mezzogiorno, immagino che non sia tra le scelte più avvincenti e poi tra l'altro il Movimento 5 Stelle finora dove ha governato non ha dato il meglio di sé e dovendo andare a governare senza avere il 40% significa che su ogni legge e su ogni provvedimento deve andare a trattare con forze politiche che ha sempre contrastato, quindi immagino che il Movimento 5 Stelle difficilmente ha i numeri per poter governare come immagino vorrebbe il Paese. Viene bocciato anche il cosiddetto governissimo governo del Presidente perché non riesco a immaginare un governo che metta insieme centrosinistra forza Italia senza Lega perché immagino che la Lega non ci sia in un ragionamento come questo e qualche responsabile che si va sempre a trovare nei corridoi del Parlamento perché questo è un governo oltre che numericamente in affanno è stato politicamente bocciato dall'elettorato, non posso immaginare un governo che tenga fuori Movimento 5 Stelle e Lega che poi sono i due risultati più clamorosi, quindi all'altra ipotesi diventa quella più che potrebbe prefigurarsi è un governo di centrodestra perché se arrivano a sfiorare il 40 con una campagna acquisti di qualche responsabile si potrebbe arrivare, altrimenti potrebbe esserci un governo solamente per fare una legge elettorale, andare nuovamente a votare e questo potrebbe essere uno scenario interessante su cui magari anche il congresso di tema di maggio viene al momento giusto. Prima l'ho sentita in radio, lei parla comunque di un'apertura nei confronti dei 5 Stelle ma anche magari nei confronti di potere al popolo che forse a sinistra rimane l'unico soggetto che ha espresso un risultato partendo dal nulla. Io penso che la sinistra è uscita sconfitta, questa è la mia valutazione, non riesco a vedere dove ci sia un risultato che possa suscitare la sottolineatura o di un successo comunque di un risultato importante. La sinistra è uscita sonoramente sconfitta e le ragioni sono molto chiare. Io non è che faccio un'apertura, il mio ragionamento nei confronti dei 5 Stelle è sempre lo stesso. Io ritengo che in questa campagna elettorale ci sia stato molto un voto di protesta più che di convinzione perché dove hanno governato finora non hanno dato migliore prova. Quindi è stato proprio un voto e mi interessa molto questo del mezzogiorno contro il Partito Democratico e quello che è venuto fuori anche nelle immagini negli ultimi giorni contro il ritorno addirittura di Berlusconi. Un voto interessante perché il voto di maggior cambiamento viene da Sud e quindi va in linea con quello che noi abbiamo fatto a Napoli. Quel tipo di voto va perfettamente in linea. Quindi non è un'apertura, è una constatazione. Se il Movimento 5 Stelle esce dall'idea dell'autosufficienza, nel senso che loro pensano sempre di potercela fare da soli e governare un giorno il Paese da soli, ma si apre un ragionamento con quelle forze, quei movimenti, quelle persone che anche prima sui territori, nel Paese, nelle amministrazioni hanno dimostrato a fatti e non solo a parole rottura del sistema e affidabilità di governo e allora si possono prefigurare scenari che fino a poco tempo fa era difficile prevedere. Penso alla conquista di alcune regioni, penso anche nel caso in cui si dovesse andare a rivotare a breve. Certo, in quel caso noi non aspetteremo i cinque anni. Il Paese si trova in una situazione talmente di difficoltà che a quel punto il congresso di Dema a maggio, l'avevamo detto, viene in un momento importante dove noi diremo al Paese che ci siamo anche noi, c'è il Laboratorio Napoli, c'è un'esperienza che non sta in un recinto ma che mette insieme rivoluzione e affidabilità di governo, che guarda chi come noi vuole rompere il sistema e dare una visione di un Paese diverso, non fondato sul rancore e sui venti di destra, ma su una coesione democratica nel valorizzare le differenze e mi sembra da questo punto di vista che se il Nord è andato a dare un voto importante alla destra, in particolare alla Lega, il Sud ha dato un segnale di rottura del sistema. Questo segnale è importante, noi a Napoli l'abbiamo già dato due volte, ecco perché colgo dei punti di contatto. Li colgo io, magari altri non li colgono, ma noi sicuramente siamo quelli che andiamo sempre a guardare ciò che potenzialmente può unire delle forze anziché dividerle. Siete, questo voto che divide l'Italia in tre parti, c'è un Nord, l'attrazione leghista, ai miei pure un po' troppo a destra, un paio di regioni del centro che sembrano reggere in mano al PD e un Sud che dà un voto come giustamente decido di grandissima protesta e quello che ha spaccato di più. Ti preoccupa un po' in funzione dell'unità del Paese, se vedi qualche figura, perché la tragedia è che non ci sono figure tali, tranne Mattarella, capaci di tenere unito il Paese su certe cose. E' una cosa che da sindaco... Ma sai, io da sindaco adesso mi auguro che ci sia quanto prima un governo che risponda alle esigenze dei territori, ai diritti e ai bisogni. Noi in questi anni abbiamo sofferto e soffriamo ancora, tante volte siamo dovuti andare addirittura a Montecitorio, abbiamo ancora le casse bloccate del Comune di Napoli, la situazione è complicata, quindi noi ci aspettiamo un governo che guardi ai territori, non sono particolarmente fiducioso perché è difficile fare un governo, quindi l'ipotesi è che ci possa essere un governo che non sia in grado di esprimere una posizione politica determinata ed efficace, che si debba andare a una serie di compromessi o che si possa stare un governo addirittura di centrodestra in cui la guida sostanziale, al di là di quella formale, può assumere sicuramente la Lega Nord, che è stato nettamente il primo partito. Quindi si apre uno scenario complicato ma anche interessante. Insomma, io non mi sono svegliato depresso stamattina. Non devo dire che il MoVimento 5 Stelle è stato un argine, anche se all'interno del MoVimento 5 Stelle c'è anche lì un sentimento, quel venticello di destra si è avvertito anche là o comunque di rottura o comunque un po' di rancore, ma al mezzogiorno è stato l'argine a Salvini, se non ci fosse stato in questa competizione elettorale, il MoVimento 5 Stelle, la Lega avrebbe preso ancora più voti al Nord, al Sud per il tipo di alleanze che ha messo in campo, in Campania come in Calabria e in altri posti. Quindi io credo che si apre una stagione importante dove ognuno deve fare una riflessione. Lo stesso MoVimento 5 Stelle, perché è andato forte, però non ha i numeri per governare. Il 32 credo sia il loro risultato massimo come forza autonoma. Oltre a quello non andranno, salvo che non si apre una stagione nuova e su questa stagione nuova si potrebbe aprire un ragionamento interessante. Vediamo, però vediamo dove vanno nel governare. Ho sentito dire responsabile, capire un attimo, perché se il MoVimento 5 Stelle potrebbe essere preso dalla voglia di governare, comunque di andare dagli altri partiti e chiedere l'appoggio che potrebbe ottenere in questo momento intelligentemente e strumentalmente, per esempio da PD e l'EU penso anche al PD, ma conviene al MoVimento 5 Stelle andare a governare con l'appoggio di Renzi e sinceramente se io fossi un esponente del MoVimento 5 Stelle che fa tutto questo per rompere il sistema e se è vero quello che dicono, che vogliono rappresentare l'alternativa, come la costruisce l'alternativa con chi ha portato il Partito Democratico a risultato peggiore della sua storia e il Paese in condizioni così complicate. Credo che si apre anche al loro interno una riflessione importante sulle varie anime, su quello che vogliono fare, se vogliono governare a tutti i costi, c'è anche immagino chi spinge a fare un accordo non col PD, ma magari con la Liga, se possono aprire stessa, ma poche ore da un voto così importante, ne avremo da discutere nei prossimi giorni. Io sono soddisfatto del fatto che non mi sono lanciato in questa campagna elettorale, non ho trascinato Napoli, che Napoli comunque la vogliate pensare, rimane comunque un esempio, un laboratorio, siamo arrivati con intuito e visione molti anni fa, abbiamo provato a coniugare rivoluzioni e affidabilità di governo, stiamo andando molto oltre gli schierei, i recinti tradizionali e siamo anche pronti a dare una mano a un Paese che sta in difficoltà, quindi io mi tengo stretto questa esperienza politica e amministrativa e credo che siamo stati anche un po' di apripista, se vedo il voto che c'è stato nel mezzogiorno. Ho messo da sette anni che viene e ha affrontato due elezioni, quello che salta evidente numericamente è che quando non ci sei tu cresce il Movimento 5 Stelle, quando ci sei tu con la tua gente sembrerebbe che i napoletani si fidano più di te e di te. E' un dato storico, basta seguire il trend e si capisce. E' un dato oggettivo, a Napoli è un dato certo, ecco perché sicuramente è importante che questa volta non ci siamo stati per le ragioni che ho detto, non trascinare Napoli eccetera eccetera e dimostra anche che il Movimento 5 Stelle va molto forte quando non c'è un'alternativa credibile. In questo momento tutto quel voto di opinione, che in buona parte è stato anche il voto che mi ha portato a diventare due volte sindaco, una volta parlamentare europeo, non ne poteva assolutamente di votare Berlusconi e Renzi e l'alternativa dall'altra parte di l'EU non è stata assolutamente credibile, il potere al popolo ha rappresentato una bella cosa di entusiasmo perché è nata da Napoli, ma insomma non poteva avere sicuramente pretese di avanzare, quindi da questo punto di vista il dato che si coglie è vero, a Napoli quando noi ci siamo stati con una proposta che è andata molto anche in quel tipo di elettorato, che ripete l'elettorato che mi ha sostenuto nel 2009 arrivando primo nell'elezione al Parlamento europeo con mezzo milione di voti, ma perciò io ho sempre anche teso una mano perché so che l'elettorato ha dei punti di contatto importanti, ma io credo che si può aprire una fase nuova, io credo che si può aprire una fase nuova e se c'è questa fase nuova Napoli c'è, Napoli è pronta a fare la sua parte, a dialogare, a confrontarsi non solo nell'interesse del Paese, della città, ma penso anche alla Regione Campania. Grazie.